Sono in aumento i casi di violenza sessuale a Milano, l'ultimo solo tre giorni fa alla stazione. Il ministro piante dosi e al lavoro per aumentare la presenza delle forze dell'ordine. La prima ferma risposta della giustizia all'ultima brutale violenza di Milano è arrivata subito con l'arresto e la convalida del fermo nei confronti di Fadil Monir, marocchino di 27 anni che fino all'ultimo ha provato a negare, screditando perfino la vittima, raccontando di rapporti consenzienti, spiegando che la conosceva da tempo per questioni di droga. Ma incastrarlo, ci sono le immagini delle telecamere di sicurezza della stazione centrale di Milano. Un episodio che alimenta l'alarme sociale in città, altre due denunce per violenza sessuale negli ultimi giorni, ma sono i numeri del Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Viminale a confermare l'emergenza. Negli ultimi tre anni le denunce per stupro sono aumentate in città e provincia di quasi il 38%, passando dalle 417 del 2020 alle 576 dell'anno scorso. La gravità di quanto accaduto circa l'ultima violenza di Milano è la serietà della situazione, afferma il Ministro dell'Interno Piantedosi, non deve farci perdere di vista il quadro generale sulla sicurezza. Stando ai dati, siamo messi meglio delle analoghe realtà europee e nordamericane. Il 10 maggio Piantedosi sarà a Milano per presiedere in prefettura il Comitato per la Sicurezza con l'obiettivo di incrementare ulteriormente la presenza di agenti. Tra le opzioni allo studio, quella di Vigili Urbani e Polizia insieme armati, anche con il Taser, per pattugliare le zone più a rischio con gli agenti della locale equiparati a poliziotti e carabinieri come propone un disegno di legge di Fratelli d'Italia. Si pensa anche di implementare la videosorveglianza con il riconoscimento facciale oggi vietato in Italia, un obiettivo che per il Ministro dell'Interno è ormai condiviso da tutti i sindaci e che dovrà essere bilanciato con il diritto alla privacy.